ben trovati amici investitori nuovo appuntamento con le interviste di vivere di dividendi torniamo con una bellissima azienda che avevamo già conosciuto circa un annetto fa infatti stiamo parlando di expert ai in questo caso un anno fa l'avamo chiamata expert system intanto hanno cambiato nome ed è non è un cambio nome a caso ma è un cambio nome proprio dovuto all'internazionalizzazione di questa azienda quindi alle grandi evoluzioni che stanno succedendo su questo bellissimo progetto e abbiamo la grande opportunità di riparlarne con il fondatore stefano spaggiari ciao stefano bentornato ciao buongiorno a tutti che quindi ci racconterà appunto tutto quello che è successo nell'ultimo anno e soprattutto le grandissime prospettive di questa azienda innanzitutto stefano per chi non conoscesse ancora la vostra realtà ci vuoi fare una breve sintesi appunto di che cosa si occupa expert ai si certo come expert ai siamo leader mondiali nell'ambito della fornitura di piattaforme di intelligenza artificiale applicate al cosiddetto natural language understanding cioè il riconoscimento del linguaggio la capacità di analizzare un qualunque tipo di testo non strutturato naturalmente noi ci occupiamo di tutto quello che è la grandissima massa di informazioni che non sono numeri sono testi sono comunicazioni e così via noi abbiamo sostanzialmente trasferito all'interno della nostra piattaforma la capacità cognitiva delle persone che sono in grado di comprendere analizzare ed estrapolare conoscenza da un testo per vari usi naturalmente che vanno dall'analisi di grandi quantitativi di informazioni per estrapolare soltanto quelle utili ad esempio prendere decisioni abbiamo clienti anche nell'ambito della finanza che utilizza la piattaforma per trovare le informazioni interessanti ai fini anche di investimenti oppure anche al cosiddetto automazione dei processi dove ci sono ancora molte persone che fanno lavori manuali legati a documenti a conoscenza analisi grandi quantitativi documenti questi processi possono essere automatizzati grazie a uno strumento come la piattaforma expert ai ai che in grado di leggere automaticamente tutto questo ed estrapolare la conoscenza che interessa quindi sostanzialmente sono delle piattaforme di intelligenza artificiale che leggono tutti i documenti che possono essere scritti a mano comunque diciamo tutto tutto quello che è testo e da questi riescono a estrapolare tutte le informazioni utili per quanto riguarda appunto l'utilizzo di specifiche informazioni da parte dell'azienda stessa e immagino che appunto avete cambiato anche il vostro nome dell'azienda proprio per rimarcare questo questo vostro focus di business e anche per rimarcare poi quella che tutto il progetto di internazionalizzazione che state facendo sì certo l'estensione AI e il parziale ribranding perché naturalmente expert è comunque rimasto voglio sottolineare questa nostra vocazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale di cui noi in realtà ci occupiamo da vent'anni ci occupiamo non lo abbiamo cominciato a fare adesso non è un rebranding dovuto al fatto che adesso l'intelligenza artificiale è cool e tutti ne parlano e solo fino a tre anni fa invece noi che già la facevamo eravamo considerati personaggi un po strani che raccontavano cose un po futuristiche sembra adesso sembra quasi incredibile naturalmente meglio così anche dal nostro punto di vista ma il fatto che noi ci occupiamo di questi temi da molti anni ci ha dato anche un grosso vantaggio perché noi abbiamo un'esperienza unica nello sviluppo di applicazioni tecnologie di software di questo tipo e chiaramente il mercato che sta maturando molto rapidamente ci permette anche di pensare anche di pensare a questa espansione di tipo internazionale soprattutto negli Stati Uniti che sta diventando il nostro focus dove ci sono grandissimi spazi di crescita. Ma infatti volevo chiederti da un anno a questa parte cosa è successo come si è evoluto il business quali progetti sono anche già partiti? Sono cambiate moltissime cose la pandemia certo da questo punto di vista non ci ha fermato perché nell'arco dell'ultimo anno giusto a partire più o meno dall'aprile scorso abbiamo presentato un piano di sviluppo che abbiamo chiamato past lead che proietta l'azienda nei prossimi anni ha una importante crescita di fatturato fino a raggiungere i 100 milioni nel 2024 abbiamo fatto un importante aumento di capital di quasi 30 milioni di euro a supporto dello sviluppo di questo piano abbiamo portato a bordo molte persone tra cui l'arrivo era appena arrivato quando ci siamo sentiti un anno fa il nostro nuovo CEO americano che lavora insieme ad altri C-level che nel frattempo sono arrivati da Boston dove abbiamo i nostri headquarter americani abbiamo fatto il rebranding come accennavamo prima abbiamo portato avanti lo sviluppo della nuova piattaforma e questo sarà l'elemento chiave anche per il futuro di fruizione di questi servizi di intelligenza artificiale in modalità software as a service e sono anche già in buona parte disponibili direttamente sul web quindi chiunque adesso si può collegare registrare e sottoscrivere uno dei nostri servizi di intelligenza artificiale applicati al linguaggio quindi è stato un anno veramente di grandissimi cambiamenti in proiezione di un futuro stiamo proprio preparando le fondamenta per quello che è la crescita che noi abbiamo proiettato per il futuro tra l'altro io volevo farti i complimenti davvero molto sentiti per quello che possono contare da parte mia nel senso non solo come azienda ma proprio a te in particolare come come intelligenza soprattutto per quanto riguarda la gestione di questo business perché appunto un anno fa quando ci eravamo sentiti Iri sostanzialmente a capo di tutta l'azienda però hai avuto questo grandissimo passaggio nel non voglio dire spostare ma nel dare grande peso a quello che può essere il mercato americano e quindi avete introdotto tante persone e quindi avete veramente dato una grandissima internazionalizzazione al vostro business quindi io l'ho vissuta veramente come un cambiamento molto molto positivo che può dare può dare vita a una grandissima realtà perché state appunto ampliando il vostro business in maniera molto molto importante quanto è importante il mercato appunto americano e avere questa forte presenza adesso lì con le persone appunto che sono in materialmente nel vostro centro direzionale in america e quindi quale può essere il contributo di tutto questo mercato ma sarà un contributo fondamentale perché il mercato americano è circa dieci volte più grande anche soltanto del mercato italiano ma con una propensione agli investimenti in tecnologie sicuramente ancora più forte ci sono molte grandi aziende molte chiaramente molte multinazionali e così via che possono essere molto ricettive e soprattutto è anche una vetrina per tutto il mondo quando tu ti affermi negli Stati Uniti in realtà ti sei affermato nel mondo della tecnologia e questa è la nostra più grande sfida che stiamo che stiamo sviluppando ma siamo convinti di poterla vincere perché abbiamo i mezzi la consapevolezza e la conoscenza per poterlo fare certo partire non dall'Italia ma partire dalla Silicon Valley o da altri luoghi come East Coast, Cambridge e così via magari un po' più semplice a fare questo percorso però noi abbiamo sempre avuto l'idea che si potesse fare anche da qui e lo stiamo facendo a maggior ragione in questo momento e abbiamo già avuto a parte già i clienti che avevamo perché noi eravamo già negli Stati Uniti e avevamo già un po' sondato il terreno per capire se fosse possibile nell'ultimo periodo abbiamo portato a casa importanti clienti ulteriori importanti clienti su cui abbiamo fatto software selection sfidando tutti anche i grandi diciamo ad esempio uno che abbiamo annunciato un mese fa circa che è Associated Press la più grossa news agency al mondo tra l'altro insomma nota nota anche per purtroppo i recenti eventi in Medio Oriente e è un cliente su cui abbiamo dovuto confrontarci con tantissime altre realtà che concorrevano per quelle abbiamo vinto alla fine quindi questo vuol dire che abbiamo gli strumenti per poterci affermare e diventare come noi vogliamo leader in questo ambito e standard effetto sul campo del natural language understanding lasciami sognare un po' ho parlato con ho intervistato qualche settimana fa Livia Cevolini che è l'amministratore delegato di Energica Motor loro hanno avuto appunto l'ingresso di un importantissimo socio a questo punto Ideanomics che è una holding quotata sul Nasdaq che è entrato con il 20% di capitale ti dicevo lasciami sognare perché quanto può essere un sogno quanto può essere veramente fattibile invece poi magari una quotazione direttamente sul mercato americano o tramite un qualche socio sul sul mercato americano per per voi beh è un qualcosa che naturalmente non è impossibile nel nostro futuro bisogna fare un passo per volta adesso l'idea di affermarsi sul mercato americano di aumentare la nostra visibilità e quando avremo fatto questo questo potrebbe essere una conseguenza perché sicuramente il luogo di elezione per società di tecnologia è quello non c'è niente da dire come noi abbiamo tanti distretti delle nostre fantastiche eccellenze il distretto del software con la I maiuscola e la California e il Nasdaq e così via questo vedremo comunque anche perché amici fuori onda appunto c'era stata un'acquisizione delle da parte di Microsoft di un'azienda analoga anche un po' alla vostra con multipli a 18 volte il fatturato mentre adesso voi comunque con la sulla borsa italiana avete una quotazione intorno ai 4 come multiplo sul sul fatturato quindi comunque anche dal punto di vista proprio di quotazioni ci può essere anche un un bello c'è un bel boost per gli investitori nel momento in cui riuscirete ad aprire questo mercato immagino beh sicuramente su quel mercato le valorizzazioni sono completamente diverse sono nostro settore viaggiano più o meno appunto tra le 10 le 20 volte il fatturato indipendentemente dai risultati economici diciamo di margini perché siamo tutti scale up siamo quindi tutte società che stanno investendo molto e quindi per il momento la cosa importante è la crescita e lo sviluppo del business e quello dell'acquisizione di Microsoft di Nuance per direi 18 billion quindi per una società comunque grande ma che fattura circa un billion è un esempio e tenete conto che Microsoft aveva già una sua tecnologia di speech che è Cortana no e però nonostante questo si è rivolta allo specialista in questo caso e lo speech recognition eh che era Nuance e e questa è un po' una risposta anche a tante domande che che a volte ci vengono fatte sul fatto ma come riuscite a competere con grandi realtà appunto come possono essere noi tra i nostri ehm competitor abbiamo anche Microsoft stessa con la sua piattaforma NLU Google ehm Amazon AWS e così via in realtà eh come spesso succede l'innovazione nasce all'interno delle piccole e medie aziende e poi le grandi aziende magari hanno poi il la forza di scalare in modo significativo ma l'innovazione nasce lì quindi Microsoft avrebbe potuto costruirsi qualcosa con 18 billion ma ha preferito acquisire acquisire Nuance ma poi ehm vi posso sicurare che un 80-90% dei casi quando vedete un'innovazione all'interno di una grande piattaforma e così via probabilmente frutto di un'acquisizione fatta un anno un anno e mezzo prima e così via quindi è un mercato in grande fermento eh in grande ascesa con tassi di crescita importanti quindi insomma siamo qui a giocarsi questa partita molto interessante Tornando appunto sul tema del fatturato e conti della della società nel 2019 2020 in realtà non avete un avuto un grande aumento di fatturato eh come magari ci si aspettava da una società come la vostra però in realtà le stime praticamente considerano un'esplosione eh del nel prossimo futuro del vostro fatturato come sarà possibile cioè quali progetti state mettendo in campo che possano supportare un aumento così importante del vostro fatturato? Beh siamo in una fase di transizione eh allora ho accennato prima tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno di preparazione di quello che è eh sarà il nostro futuro un po' come se stessimo scavando le fondamenta di un grande grattacielo per cui ancora non si vede nulla e dici ma ehm che cosa succederà ma se tu non costruisci le fondamenta poi il grattacielo crolla no quindi o non cresce proprio e la cosa più importante è l'evoluzione del modello di business noi siamo passati cioè un'evoluzione di modello di business che adesso rapidamente racconterò dovuta al fatto che anche il mercato è cambiato il modello di business che stiamo implementando adesso anche solo due anni fa non sarebbe stato possibile implementarlo perché non c'era la domanda di un certo tipo di servizi o era sporadica come noi coprivamo ma in modo molto eh come dicono i mercati geopolitize cioè c'erano solo pochi eh innovatori aziende molto avanzate ora la domanda di ehm servizi di intelligenza artificiale sta crescendo molto e sta crescendo in modo molto omogeneo quindi c'è la possibilità di passare da un modello di business che era di licenze perpetue legate a progetti specifici a invece a un business model con licenze ricorrenti quindi canoni annuali con eh un ruolo sempre eh nostro sempre più rivolto all'essere vendor e a lavorare con un ecosistema di eh system integrator consultant di partner in generale che possano utilizzare la nostra piattaforma in modo molto orizzontale per tutte le loro esigenze in termini di natural language understanding quindi eh in questo modo naturalmente così poter far leva anche sulle loro capacità di vendita l'implementazione della piattaforma software as a service che eh abbiamo eh messo eh già in buona parte a disposizione e ci sarà un ulteriore release qui a giugno dove eh chiunque potrà collegarsi sottoscrivere i servizi e utilizzarli eh quindi un altro fattore un altro volano di crescita del fatturato in modalità chiamiamola automatica mentre in passato era per noi sempre necessario contattare i clienti andarle a trovare con un 6 cycle anche molto lungo quindi il combinato disposto tra la piattaforma software as a service e la la l'incremento della della relazione con i nostri partner già l'anno scorso eh abbiamo fatto con una crescita circa del 30 per cento eh il 14 per cento il 14 15 per cento il fatturato tramite partner questo il nostro obiettivo è arrivare al 50 per cento arrivare questi due elementi permetteranno appunto eh questo tipo di crescita e questi due anni diciamo a partire diciamo in realtà dal secondo semestre l'anno scorso e quest'anno sono eh un momento di transizione per preparare tutto questo perché anche per creare ad esempio la rete di partner così serve tempo non si non sono cose che avvengono magari dall'oggi al domani e i primi veri effetti si cominceranno a sentire dal dal prossimo anno ma già qualcosa quest'anno si comincerà a intravedere. Quindi comunque ci dicevi all'inizio voi come piano industriale avete obiettivo eh fatturato eh 100 milioni 2024? Sì esatto questo è il nostro il nostro target per il 2024. Ok quindi considerando che adesso siete a 35 praticamente cresce avete una potenzialità di crescita di un per tre sostanzialmente? Sì un per tre sono circa il dal partire dal prossimo anno 35 40 per cento nei nei prossimi tre anni dal 2022 al 2024. Sarà sarà molto bello seguire il vostro percorso perché comunque le 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 basi giustamente come stavi dicendo tu ci sono tutte quindi vediamo un po' come come si evolve. Nel frattempo però ehm dobbiamo anche dare visibilità su quelli che possono essere i dati attualmente di utili e flussi di cassa che mi verrebbe da dire ovviamente adesso sono negativi però magari tu appunto ci puoi spiegare il perché adesso sono negativi e soprattutto quali sono le proiezioni anche per utili e flussi di cassa. Sì certo allora per qualunque scale up chiunque può andarsi a vedere anche i dati di tutti i nostri comparable competitors e così via nella fase di ramp up i flussi di cassa naturalmente sono negativi il fatto che abbiamo fatto un aumento di capitale lo scorso anno era proprio per gestire questa questa situazione per due motivi investimenti in ricerca e sviluppo quindi accennavo prima allo sviluppo della nuova piattaforma software as a service che avrà delle peculiarità assolutamente uniche al mondo soprattutto in termini di facilità d'uso tools a contorno e così via per permettere veramente a tutti di poter utilizzare l'intelligenza artificiale in modo semplice e diretto e non dover essere dei guru o dei super esperti e questo potrà fare la differenza e naturalmente allo stesso tempo anche grossi investimenti in cassa e marketing per far sapere al mondo e soprattutto negli Stati Uniti della disponibilità di questo strumento straordinario quindi il combinato disposto dei due tipi di investimenti porta a questo andamento comunque coperto dalle risorse che abbiamo raccolto noi adesso abbiamo chiuso l'ultimo bilancio con circa 53 milioni di euro in cassa con una posizione finanziaria netta positiva di oltre 21 milioni e così via quindi questo tipo di investimenti sono assolutamente coperte dalle disponibilità di cassa ma è come noi di solito amiamo fare cioè lavorare in modo serio in modo prospettico investendo quello che abbiamo a disposizione legato a questo discorso sulla cassa appunto avete una cassa molto molto importante sono tutti i soldi che appunto gestirite principalmente per quanto riguarda lo sviluppo dei vostri progetti interni o eventualmente avete anche considerate anche l'idea di fare qualche acquisizione allora punto di vista delle acquisizioni credo di no perché almeno per il momento non si prefigura alcuna realtà interessante da poter essere acquisita perché dal punto di vista della tecnologia riteniamo di avere di gran lunga la miglior tecnologia disponibile il modello che abbiamo implementato non è un modello che in prospettiva ha uno sviluppo diretto quindi allarghi la tua base clienti attraverso l'acquisizione magari di qualche realtà ma si basa sul sull'utilizzo della rete di partner sull'uso della piattaforma software as a service quindi in in sales service e quindi direi che per il momento all'orizzonte non ci sono acquisizioni poi nello settore mai dire mai ma per il momento non ne vediamo rimanendo sempre sui numeri e sui bilanci è vero che appunto avete questa cassa molto molto importante è vero anche che però dall'altra parte avete anche un debito che è abbastanza consistente potrebbe essere un fattore di rischio come viene gestito in questo momento no quelli i debiti che noi abbiamo sono tutti di natura operativa sono non ci sono debiti particolari chiaramente ci sono dei debiti nei confronti di chi ci ha finanziato delle banche del sistema bancario ma quello è nei numeri quindi tra l'altro con una scadenza media abbastanza diluita nel tempo non sono la maggior parte sono debiti a medio lungo e non a breve quindi da questo punto di vista appunto anche dato dalla posizione finanziaria netta che è molto solida quindi è positiva e non negativa su questo la gestione sarà assolutamente normalizzata in funzione delle varie scadenze stavo vedendo in diretta avete già all'interno attratto tra virgolette l'attenzione di tanti investitori importanti leggo c'è già Invesco, Azimut, Mediobanca, Banca Ifigest ce ne sono veramente tanti come mai avete questa attrattiva che sicuramente positiva rispetto agli ai grandi investitori c'è un lavoro che state facendo voi quindi siete bravi a parlare con gli investitori o è proprio il progetto che magari è molto allettante? Beh direi che ce la sei in tranne le cose Puoi chiedere la notte se il video è buono ovviamente però No vabbè, parafrasando aiutati che il progetto ti aiuta insomma nel senso che va portato sui vari tavoli va spiegato, io fino a un anno fa ero in giro per quanto meno per l'Europa perché sapete gli Stati Uniti hanno una regolamentazione diversa quindi abbiamo per il momento privilegiato l'investitore europeo e comunque mi dividevo tra Francoforte, Parigi, Londra a incontrare Invesco e gli altri nell'ultimo anno l'abbiamo fatto in modo digitale, giusto ieri ho passato tutta la giornata a una conferenza virtuale a Francoforte di investitori quindi il combinato risposto e il fatto di portare a conoscenza la storia, il progetto e la qualità del progetto stesso hanno fatto sì che effettivamente abbiamo un cosiddetto interessante parterre des rois di investitori molto molto importante e ne siamo molto felici, orgogliosi e anche li ringraziamo per la fiducia che ci hanno dato Voi tra l'altro giusto una domanda in chiusura siete già ovviamente operativi, forse siete nati già praticamente oltre che digitali ma appunto non avete tanto bisogno della presenza fisica anche come smart working e così via credo che ormai passa tutto tramite conferenza anche dal punto di vista di lavoro cioè non avete problematiche dovute alla pandemia e a tutto quello che ne concerne o comunque questo fatto di avere due centri direzionali lasciami dire in Italia e in America si gestisce tranquillamente Allora, noi facevamo smart working già da prima non certo in queste dimensioni, in questa portata quindi per noi il passaggio è stato non particolarmente indolore e abbiamo gestito tutto questo ultimo anno di grandissimi cambiamenti tutto in remoto quindi sicuramente sì, siamo una delle categorie privilegiate che si può permettere lavorando con l'intangible di fare tutto così ma noi non vediamo l'ora comunque di poter riportare in ufficio anche le nostre persone nei nostri uffici perché comunque anche la relazione diretta, il rapporto umano lo scambio di esperienze e così via in modalità fisica è sicuramente tutta un'altra cosa poi sicuramente un po' cambierà il modo di lavorare dopo tutto questo perché si è capito che si può fare anche in modo diverso ma dobbiamo comunque riconquistare una componente fisica di lavoro insieme che è assolutamente importante anche per la creazione del gruppo noi abbiamo tante persone nuove che sono arrivate in quest'ultimo anno e dobbiamo farle integrare insieme anche alle persone preesistenti che già avevano avuto modo di interagire assolutamente grazie mille Stefano per averci dato questa bellissima visione del vostro progetto molto molto ambizioso, molto molto interessante saremo assolutamente felici di seguirlo con voi quindi quando vuoi sei un ospite molto gradito per continuare a seguire questo bellissimo viaggio che state facendo grazie per l'invito e sarà un piacere essere di nuovo con voi fra un po' di tempo e raccontare le evoluzioni grazie a tutti per aver guardato questa intervista io vi lascio qui sopra il link a tutte le altre interviste che abbiamo realizzato con gli amministratori delegati delle più importanti società italiane e noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video io vi saluto e buon dividendo a tutti grazie a tutti i giorni con un nuovo video